Salve a tutti, vogliamo parlarvi un po' delle attività di Skyward di quest'ultimo periodo riguardanti Roxanne 1X. Skyward Experimental Rocketry è un'associazione di studenti del Politecnico di Milano nata tre anni fa. Il nostro obiettivo è quello di progettare, realizzare e lanciare misteri sperimentali. In questi tre anni siamo stati occupati con la progettazione di Roxanne 1X, il primo mister studentesco interamente realizzato al Politecnico di Milano dai suoi studenti. È stata un'avventura fantastica, l'impegno che gli studenti hanno provoso nelle attività è stato esemplare. Siamo orgogliosi e felici di potervi presentare i risultati del nostro lavoro. La realizzazione del progetto Roxanne 1X ha richiesto notevole sforzo nel campo del project management. Il progetto infatti sta studiuto in tre fasi, fase A, fase B e fase C. Nella fase A si è predisposto uno studio preliminare del missile, nella B invece sono stati studiati i sottosistemi e i loro componenti in maggiori dettaglio e la C si è costruito fisicamente il missile. A conclusione del progetto abbiamo deciso di rilasciare dei report tecnici in inglese su nostro sito ufficiale. Il rilascio di un report verrà accompagnato da un video di presentazione. Skyward crede molto negli studenti e nella loro capacità di sviluppare idee innovative. Condividere aiuta a trasmettere anche quella passione che c'è dietro e noi di passione ne abbiamo tante.